Il Consiglio Comunale, presieduto da Raimondo Pasquino, aderendo alla giornata internazionale indetta dall'ONU, si è riunito nella storica Sala dei Baroni del Maschio Angioino per discutere delle politiche di contrasto e prevenzione alla violenza contro le donne. Il Presidente Pasquino, accogliendo la richiesta delle consigliere Elena Coccia, Amalia Beatrice, Teresa Cagliazzo, Maria Lorenzi e Simona Molisso, ha autorizzato la partecipazione di tutte le associazioni dei cittadini interessati alla seduta consigliare. Dopo l'appello iniziale, il Presidente Pasquino ha espresso solidarietà all'assessore Tomasielli per l'aggressione subita nel suo studio professionale ed ha salutato tutte le donne presenti ai lavori dell'Assemblea. Presenti in aula anche alcuni parenti di vittime di violenza sessuale e numerose associazioni, rappresentanze sindacali femminili e rappresentanti istituzionali. In apertura, il Sindaco Luigi De Magistris, dopo aver ricordato i dati sommersi sulla violenza alle donne ed aver ripercorso i momenti più significativi della storia che le ha visto protagoniste, ha ribadito che le donne hanno elevato l'eticità e la qualità delle istituzioni. L'assessore Tomasielli si è soffermata sulla necessità di una programmazione di politiche di genere da perseguire in pieno accordo con le donne del sindacato. Il Consiglio, dopo le relazioni degli intervenuti, ha provato all'unanimità i 12 ordini del giorno a firma di tutti i gruppi politici, mentre al calar delle tenebre la facciata del maschio angioino è stata illuminata di rosa per ricordare tutte le donne vittime di violenza. Il Presidente, in conclusione, ha posto in votazione la deliberazione dell'adesione alla decima edizione della campagna mondiale, promossa dalla comunità di Sant'Egidio, città per la vita, città contro la pena di morte, che è stata approvata all'unanimità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.